miei cari haters denigratori che siete persone frustrate che avete ovviamente dei problemi mentali perché siete dei malari mentali ficcatevolo tutto nel di dietro pezzi di m mentre voi animali da palestra tanti bei like per il vostro leon evocato eppure voi tanti bei like gnocche che divampate divamperemo sempre assieme appassionatamente tanti bei like piegamenti con lo schiaffo ok banda alle ciance go hey go let's go due quattro cinque sei sette la gara roxy sono in dolce compagnia da un altro ok ci vediamo al prossimo episodio di vincent lionardo oh yeah